Il primo contatto fu proprio con questa entità, nel maggio del 1999. Sotto forma di lettere dirette alla compagna, Tommaso tenta di tradurre in termini accessibili alla nostra ragione la nuova realtà che lo circonda ed il nuovo modo di vedere le cose della terra, con tutte le relative implicazioni, non mancando comunque di confortare e di incoraggiare la consorte negli inevitabili momenti di crisi.